Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook dove pubblico dei video inediti di casi italiani, quindi se avete voglia di tornare ad ascoltare dei casi italiani venite a dare un'occhiata nella pagina Facebook. Detto questo, diamoci dentro col video. In alcune storie l'orrore non proviene dall'esterno, si ramifica tra le mura domestiche e trascina un membro del nucleo chiamato famiglia nell'oscuro vortice dell'indifferenza. Questo caso inizia con una coppia, quella composta da Clay e Sheila Fletcher. Sono entrambi nati alla fine degli anni 50 e vivono in Louisiana, a sud-est degli Stati Uniti, dove si svolge la vicenda che sto per narrarvi. Vorrei potervi raccontare dell'educazione che i due coniugi hanno ricevuto da piccoli, di come è nata la loro relazione, ma purtroppo non emergono fonti così dettagliate a riguardo. In realtà, a tratti, questo caso sembra avvolto da un velo di mistero, ma ve ne parlerò più avanti. Clay e Sheila vivono in una piccola cittadina chiamata Slaughter, in Louisiana. La popolazione conta circa 900 persone e si tratta di uno di quei posti in cui tutti si conoscono. La coppia dei Fletcher si reca in chiesa ogni fine settimana e i due coniugi sono molto attivi nella loro comunità e rispettati da tutti. Clay Fletcher ha lavorato come ufficiale per l'organizzazione Battle Rouge Civil War, mentre sua moglie Sheila è stata un'impiegata della polizia della contea, precisamente nella vicina città di Baker. Più avanti nel tempo, la donna è diventata un consigliere comunale, eletta dagli abitanti di Slaughter, per rappresentare la loro città. Dopodiché, ricopre l'incarico di vicesindaco. Arriviamo alla metà degli anni Ottanta, quando entrambi hanno circa 20 anni. Sheila è rimasta incinta e il 25 novembre 1985 la coppia dà il benvenuto alla sua prima figlia, che decide di chiamare Lacey. Secondo i residenti della loro comunità, Sheila e Clay sono tanto orgogliosi della loro figlia, adorano la piccola Lacey e provano ad accontentare tutte le sue richieste. È una bambina molto amata. Lacey vive un'infanzia felice e a metà degli anni 90 la famiglia si trasferisce in un'altra casa, rimanendo però nella stessa cittadina. La nuova dimora si trova in una zona pittoresca, piena di verde, dove tutto sembra scorrere nella tranquillità. Lacey frequenta la Brownsville Baptist Academy, una scuola privata. È una studentessa incredibilmente intelligente, brillante e ha molti amici. Va d'accordo con tutti e nel quartiere viene descritta come una ragazzina premurosa e gentile. Lacey fa parte della squadra di pallavolo e della lega di bowling e ama partecipare ai pigiama party con le sue amiche. Tra le sue più grandi passioni c'è la musica country, che ascolta tutti i giorni. Lacey però ama particolarmente Mariah Carey e ancora di più i film della Disney. Li colleziona tutti, poi ha pure diversi giocattoli e vestiti del brand e adora andare a Disneyland. Quando vi si riega invia diverse foto tramite email ai suoi amici ed è chiaro che si sta divertendo un mondo. Possiamo vedere la ragazzina nella foto dell'annuario della terza media in cui ha circa 14 anni e appare davvero felice, ma purtroppo questa spensieratezza sembra destinata a dissolversi. In questo periodo gli amici e i vicini di casa di Lacey affermano che il suo comportamento si è cambiato all'improvviso. La verità è che le viene diagnosticato l'autismo, che comincia a influenzare la sua vita quotidiana. Purtroppo, presto, Lacey diventa vittima di bullismo. Lacey cresce, ma i suoi interessi non maturano di pari passo con lei. È come se fosse ancora una bambina. Chi la conosce ritiene che sia ossessionata soltanto dalla Disney e non prove curiosità verso nient'altro. Tale aspetto contribuisce al bullismo che Lacey subisce quotidianamente, sviluppando in questo periodo un'ansia sociale piuttosto grave. Lacey esce di casa sempre meno, non interagisce volentieri con le persone e coltivare dei rapporti sociali diventa davvero difficile per lei. Non riesce più, purtroppo, a partecipare agli eventi in cui è presente tanta gente, fatica a stabilire un contatto visivo con le persone e si isola persino dagli amici con cui si sentiva a suo agio. Perché adesso pure queste interazioni la agitano. I suoi genitori allora la portano da uno psicologo, il quale spiega che Lacey ha un cui estremamente basso. La ragazzina incontra lo psicologo durante i 12 sedute, poi le interrompe e nessuno interviene per supportarla ulteriormente. Quando Lacey finisce la terza media, i suoi genitori, Clay e Sheila, la ritirano da scuola. Non so perché abbiano preso questa decisione, ma sussistono diverse ipotesi, o a causa del bullismo, o forse perché Lacey sviluppa una difficoltà di apprendimento quasi ingestibile. Anche se la causa scatenante non è nota, si sa che i genitori comunicano alla ragazzina che la istruiranno a casa, e questa scelta genererà un impatto irreversibile sul resto della vita di Lacey. Non appena la ragazzina inizia a studiare a casa, viene vista raramente in mezzo alla gente. Dapprima sono occasionali le volte in cui va in giro con gli altri ragazzini del quartiere, ma col tempo anche queste uscite diventano più che sporadiche. Lacey vive come se fosse recluse in casa, e le risulta sempre più complicato interagire con le persone. Ovviamente la sua ansia sociale peggiora. Quando la ragazzina compie 16 anni, i suoi genitori la portano da un altro medico, informandolo che la figlia soffre di un'ansia sociale pesante e che è affetta da una forma grave di autismo. I coniugi chiedono al dottore se c'è qualcosa che possano fare per aiutarla, ma anche in questo caso sembra che Lacey non riceva l'aiuto di cui ha bisogno, infatti viene rimandata a casa senza che le sia stato prescritto alcun tipo di trattamento. Così Lacey torna a immergersi nella sua solitudine, lì a casa con i suoi genitori, e sembra che le mura dell'abitazione l'abbiano risucchiata. Solo di tanto in tanto i vicini la vedono camminare avanti e indietro nei dintorni dell'abitazione, con dei pesi in mano, come se stesse eseguendo degli esercizi. Lacey sembra in salute, per cui nessun vicino si preoccupa o immagina che stia accadendo qualcosa di strano in casa Fletcher. La situazione si protrae per i successivi cinque anni, Lacey studia a casa, esce raramente e viene intravista dai vicini, ma quando la ragazza compie 21 anni, all'improvviso, nessuno la vede più in giro, sparesce del tutto. Lacey non esegue più i suoi esercizi con i pesi, non viene mai avvistata al supermercato né vista da un medico. È come se fosse una persona scomparsa, ma purtroppo nessuno presta sufficiente attenzione all'accaduto. Perché sì, nessuno si chiede dove sia finita Lacey Fletcher, o perché non esca più, nessuno si preoccupa più per lei. Il caso, come accennato, assume dei contorni misteriosi perché, mentre Lacey sembra scomparsa dalla faccia della terra, i suoi genitori continuano a vivere normalmente, a svolgere le loro attività, a essere presenti nella comunità. E tutti adorano Sheila e Clay. Sheila, in particolare, continua a lavorare per il comune ed è un utente di Facebook molto attiva. Pubblica tante foto di se stessa e di suo marito mentre partecipano agli eventi sportivi o alle cene. Sheila aggiorna costantemente i suoi amici sulla sua vita, ma non menziona mai sua figlia Lacey. Per quanto mi riguarda, è sospetto che Lacey non sia mai presente né nelle parole né nelle fotografie della madre. Nessuno si chiede perché. Perché non viene mai inclusa negli eventi del quartiere ai quali i suoi genitori partecipano? Hanno dimenticato di avere una figlia? È assurdo che gli abitanti della zona e gli amici sui social, pur conoscendo la famiglia della coppia, non si pongano questa domanda. Dal canto loro, i vicini di casa non considerano strano che Lacey non si veda più in giro. Forse si era allontanata da Slaughter per andare a studiare al college, trasferendosi in una città più grande. O ancora potrebbe aver incontrato un uomo e essersi sposata. Sì, questo potrebbe risultare plausibile agli occhi dei vicini, ma se così fosse, perché Lacey non va mai a trovare la sua famiglia? Ammesso che frequenti il college altrove, non torna mai per le vacanze? E nell'ipotesi in cui si fosse fidanzata o addirittura sposata, perché non ha mai portato il suo partner a casa della sua famiglia? È tutto talmente strano. Insomma, dov'è Lacey? Purtroppo non si è mai trasferita. Vive ancora nella casa dei suoi genitori senza mai varcare la porta e uscire. Ma viene tenuta in casa contro la sua volontà? Beh, secondo Clay e Sheila no. Si tratta di una decisione di Lacey. È lei che vuole stare sempre e solo a casa perché è troppo ansiosa. Nemmeno si sposa dal soggiorno. Per tutto il giorno e tutti i giorni, Lacey rimane seduta sul divano. Non muove un muscolo. Sono ormai tre anni che non mette piede fuori da quell'abitazione neanche per respirare un po' d'aria fresca. Nel 2010, quando Lacey ha 24 anni, Clay e Sheila si rivolgono a un altro dottore, dicendogli che hanno bisogno di aiuto. Clay afferma che sua figlia ha sviluppato ogni tipo di fabbia possibile. Non vuole lasciare il soggiorno di casa, non vuole neanche alzarsi dal divano. Quello è l'unico posto in cui si sente al sicuro, quindi Sheila e Clay devono persino portarle tutti i pasti mentre lei resta sul divano. Anche di notte, Lacey dorme lì e accanto al divano c'è una pila di DVD della Disney. Sheila e Clay le mettono ogni tanto un film diverso. Questo è l'unico intrattenimento di Lacey. Cosa peggiore, Lacey non lascia il divano neanche per fare la doccia o il bagno. Ormai è molto sporca, i suoi capelli sono ingarbugliati ed emana un odore sgradevole. Ma non è finita qui. Siccome Lacey si rifiuta di lasciare il divano anche per andare al bagno a espletare i propri bisogni, i suoi genitori hanno sistemato una toilette portatile accanto al divano. Loro provano a incoraggiarla ad alzarsi e sedersi sulla toilette portatile collocata vicino al divano, ma Lacey si oppone anche a questo. I suoi bisogni li fa su un asciugamano adagiato sul sofà, un'abitudine ben poco igienica. L'urina e le fede di Lacey le ricoprono la pelle di tutto il corpo, causando le diverse eruzioni cutanee dolorose. Clay e Sheila si sono recati avveliti nello studio del dottore per spiegare questa tragica ed estrema situazione. Il medico consiglia ai genitori della ragazza un ricovero immediato, urgente, e si offre di emettere un ordine di ricovero per ogni evenienza, in caso Lacey si rifiuti di nuovo di lasciare il divano. Quindi la segnalazione del medico consentirebbe di ricoverare Lacey anche contro la sua volontà. Ciononostante, Clay e Sheila si oppongono categoricamente. Non vogliono che Lacey sia trasferita in un ospedale, affermano che la figlia è felice in casa propria. Lacey, secondo la coppia, dice ai genitori che sta bene, non soffre né è infelice né ha disagio. Secondo me Clay e Sheila stanno perdendo un'opportunità per salvare Lacey. E mi chiedo perché il dottore non abbia allertato le autorità. Perché nessuno sia andato a casa Fletcher per controllare lo stato di salute di Lacey. Del resto i suoi genitori non hanno mica nascosto al medico le sue gravi, gravissime condizioni. A mio avviso Clay e Sheila stanno passando dall'essere coloro che intendono aiutare la figlia a dei genitori intenzionalmente negligenti. Dato che si sono rifiutati di accettare i suggerimenti del medico, la situazione viene ignorata. Ripeto, nessuno fa nulla. Né le autorità, né la famiglia della ragazza. Sheila e Clay continuano a trascurare la figlia nella maniera più disumana di cui abbia mai sentito parlare. Secondo i loro racconti, Lacey si rifiuta di lasciare quel divano per oltre un decennio. Come detto, è lì che mangia, fa i suoi bisogni e si lava per quanto possibile con qualche salvietta. Ma Clay e Sheila, durante questi dieci anni, cosa fanno? Come possono non interessarsi a fondo alla drammatica situazione che hanno in casa? Come possono continuare a condurre la loro vita normalmente? Avere una figlia che verse in quello stato è a dir poco tragico e dovrebbe essere motivo di preoccupazione, di panico. Ma la coppia si comporta come se non avesse alcun problema. Quando è in mezzo alla gente, riesce a fingere che vada tutto bene. Penso che la maggior parte dei genitori, in una situazione del genere, non riuscirebbe a dormire la notte. Assorta nell'unico pensiero di fare qualcosa affinché la propria figlia stia meglio, anche arrivando a programmare un ricovero coatto. Invece, Clay e Sheila vanno al lavoro come di routine. Vi ricordo che lei è vice sindaco, per cui la coppia partecipa a molti eventi organizzati dalla cittadina in cui abita o esce con gli amici a cena. Sheila, come detto, posta su Facebook ogni particolare della sua vita. Pensate che pubblica anche una foto di lei e Clay davanti all'albero di Natale, che si trova nella stessa stanza occupata da Lacey. Io mi chiedo come sia possibile tutto ciò. Come queste persone possano posare sorridenti davanti all'albero di Natale, dando l'idea che tutto vada benissimo. La foto viene anche postata su Facebook, mentre la ragazza sta letteralmente immaricando su quel dannato divano, accanto a loro. Durante le chiacchiere scambiate con qualche vicino, che domanda. Anche se raramente come sta Lacey, Clay e Sheila puntualmente si bloccano e provano a cambiare argomento il più rapidamente possibile. La coppia, come se Vince, non parla mai volentieri della figlia e evita di dare informazioni su di lei, limitandosi a rispondere «Oh sì, Lacey sta bene!» per poi argomentare di altro. Dato che tutti credono che Lacey stia bene, la situazione non evolve e lei non viene più vista in pubblico per 15 anni. Per 15 anni Sheila e Clay si presentano come genitori amorevoli e orgogliosi della loro famiglia. Vivono come se in casa loro non vi fossero tormenti. Poi, dopo questi lunghissimi 15 anni, viene fatta una scoperta orribile. Devo avvisarvi, da adesso il video potrebbe risultarvi particolarmente angosciante e non penso di riuscire a sottolineare a sufficienza quanto Lacey sia stata trascurata. Arriviamo al gennaio 2022. Lacey ora ha 36 anni. Alle due di notte, sua madre, Sheila, fa una chiamata ai servizi di emergenza e riferisce all'operatore che sua figlia ha smesso di respirare. Sembra in preda al panico, dice di non sapere cosa sia successo a sua figlia. Ora è adulta, dice letteralmente «Insomma, è una lunga storia». Improvvisamente mia figlia ha smesso anche di respirare e non mangia più. L'operatore allora chiede quanti anni abbia questa figlia. E Sheila risponde «Oh, credo ne abbia 30, forse 31». Sì, sì, ha 31 anni. Vi ho appena detto che Lacey in realtà ha 36 anni. Questo vuol dire che Sheila non ricorda neanche l'età di sua figlia. Comunque, l'operatore del 911 indica a Sheila di spostare Lacey sul pavimento. Solo così può provare a eseguire delle compressioni toraciche. Sheila allora gira l'ordine a Clay, ma lui le risponde che non riesce a sollevare la figlia dal divano. Quindi le pratica queste compressioni toraciche lì sopra. Poco dopo, un vice sceriffo arriva a casa Fletcher, dove Clay sta ancora eseguendo le compressioni toraciche su Lacey. Il vice sceriffo, nel vedere in quali condizioni si trova Lacey su quel divano, subisce un vero shock. Affermerà che è stata la cosa peggiore che ha visto in tutti i suoi anni di carriera. Il vice sceriffo, inoltre, si rende conto che non sono attrezzati per affrontare questa complicatissima situazione. Devono telefonare al medico legale. Quando il coroner, il dottor Ewell Beekham, entra nell'abitazione, inorridisce anche lui. L'odore che emana la casa è terribile. Nei pressi del soggiorno, poi, quasi non si respira. Beekham afferma che si tratta del peggior odore che abbia mai sentito in tutta la sua vita. Ed è un medico legale. Sente odori raccapriccianti in continuazione. Il coroner lo identifica come un tremendo miscuglio di puzza di fogna, di una fossa settica, di urina, sangue e carne in decomposizione. Il tanfo è così insopportabile che nel giro di due minuti Beekham avverte dei conati di vomito. L'aria è pregna di questi odori e tenete presente che il coroner li percepisce prima ancora di vedere Lacey. Esce, prende una boccata d'aria e rientra in casa, dove in cucina individua Clay e Sheila. Clay ha un'espressione vacua sul viso e sembra privo di emozioni. Sheila è accasciata sul pavimento con la testa tra le ginocchia. Insomma, entrambi appaiano completamente traumatizzati. I due indirizzano il medico legale nel soggiorno, gli indicano il divano dove si trova Lacey e anche lui rimane completamente scioccato, come il vice sceriffo. Gli risulta difficile persino descrivere l'aspetto di Lacey e di quella che, chiaramente, è una scena del crimine. Il divano si colloca al centro del soggiorno e quanto lo circonda sembra nella norma. Da un lato c'è un tavolino con una lampada accesa, sulla parete sono appese delle foto, ma il divano si discosta da questa immagine comune perché è interamente ricoperto da urina e fiumane, al punto che la pelle di una buona porzione del sofà sembra bruciata. È praticamente scomparsa, la schiuma dell'imbottitura è esposta e una parte è completamente sciolta. In pratica c'è un buco sul divano e Lacey è sempre rimasta lì, dentro quel buco. Infatti è immersa nel divano fino ai fianchi. Già l'aspetto del sofà è terribile. Pensate a vedere Lacey che è rimasta infilata lì senza mai cambiare posizione. In questo video non inserirò le foto del divano, libere da censure, quindi non vedrete nulla che potrebbe urtare la vostra sensibilità. Queste foto le trovate facilmente su Google, ma vi avviso, potreste anche imbattervi nelle foto del corpo di Lacey, purtroppo già senza vita su quel divano. Vi assicuro che sono immagini raggelanti. Infatti quando il coroner osserva il corpo di Lacey, la prima cosa che pensa è «Oh mio Dio, questo è lo stato peggiore in cui io abbia mai visto un essere umano». Il medico legale nota che Lacey indossa soltanto una maglietta blu. Non ha pantaloni né biancheria intima, quindi dalla vita in giù tutto è esposto. Tra l'altro la maglietta è sollevata fin sopra il seno. Risulta evidente che è malnutrita. Tutte le ossa sono sporgenti, infatti si appurerà che la 36enne pesava soltanto 43 kg. La sua corporatura è incredibilmente piccola e avvizzita, come se Lacey si fosse rimpicciolita nel divano. È rimasta per anni nella stessa posizione, seduta con le gambe incrociate, leggermente accasciata da un lato. È una visione davvero tanto inquietante. I suoi occhi sono sbarrati, la bocca è aperta, i denti sono ancora sani, e questo è strano. Ma le condizioni della sua pelle e dei suoi capelli sono le peggiori. Lacey è coperta dalla testa ai piedi delle sue stesse deiezioni, anche secche. Il suo viso, il petto e lo stomaco ne sono pieni fino a essere incrostati. Anche le sue orecchie sono estremamente sporche e ostruite dallo sporco. La materia fecale viene ritrovata persino nel suo naso e all'interno della bocca. I suoi capelli sono incrostati e ingarbugliati e formano una palla sulla sua testa. Il cuoio capelluto e rosso è stratificato dalla sporcizia. Il viso è coperto da grandi vesciche rosse. Le sue unghie sono estremamente lunghe e luride, ma non basta. La povera Lacey è anche invasa dai vermi che le strisciano sulla pelle e gliela lacerano. La carne è coperta da ogni sorta di punture di insetti, che si sono infilati pure nelle sue orecchie, mangiucchiandole. La cosa più angosciante è che l'atroce strazio degli insetti che si nutrono della carne di Lacey ha avuto inizio quando lei era ancora in vita, chissà da quanto tempo. Lacey aveva delle infestazioni di vermi nelle orecchie e sui genitali. E quando il coroner si avvicina di più al corpo di Lacey, fa una scoperta ancora più terribile. Non può esserci una situazione peggiore di questa. Lacey si è letteralmente fusa con il divano. La sua pelle si è sciolta ed è rimasta attaccata al sofà. Ma come può essere successo? Vi spiego. Siccome Lacey aveva delle ferite molto grandi ed esposte, la sua pelle era diventata collosa e si era attaccata al tessuto e alla schiuma del divano. Poi, quando la pelle della poverina aveva iniziato a sanarsi, lo aveva fatto a contatto con il tessuto del divano, per cui era avvenuta questa angustiante fusione. Ecco il vero motivo per cui Clay non è riuscito a sollevare la figlia per adagiarla sul pavimento durante la chiamata al 911. A causa di queste grosse ferite sempre esposte, la pelle di Lacey aveva iniziato a decomporsi mentre lei era ancora viva. Non era mai stata spostata da quel divano, quindi, come nota il coroner, le sue natiche sono ricoperte da piaghe da decubito fino a risultare quasi inesistenti. Non c'è più la pelle e non ci sono più i muscoli, ma solo ossa. Come forse sapete, le piaghe da decubito sono molto dolorose e difficili da trattare in condizioni normali. Una piaga da decubito si forma nel momento in cui, per lungo tempo, una parte del corpo, pelle, tessuti sottostanti, muscoli, è soggetta a una compressione prolungata, trovandosi tra una sporgenza ossea e, in profondità, una superficie esterna di appoggio. Questa pressione determina una mancanza del flusso sanguigno, quindi quella parte di pelle muore. Ecco perché i pazienti non autosufficienti devono essere spostati spesso da chi li assiste. E Lacey si trova in quello stato perché non ha potuto muoversi da lì per 15 anni. Pensate che si individuano delle ulcere da decubito anche dietro la sua nuca e ci sono addirittura delle fibre del divano e dei vermi sulla superficie delle sue ossa. Io non credo di aver mai sentito parlare di condizioni peggiori di queste e penso che le mie parole non siano nemmeno sufficienti per descrivere appieno lo stato in cui è stata trovata Lacey. Io non immagino neanche quanto dolore deve aver provato questa ragazza, quanto avvilimento, quanta rassegnazione. Devo infatti sottolinearvi che, quando vi ho raccontato che Lacey si rifiutava sempre di lasciare il divano, queste erano parole dei suoi genitori. Ma non sappiamo se fossero veritiere o meno. Sappiamo solo che le condizioni in cui viene trovata questa povera donna sono inumane. si stava decomponendo mentre era viva e i suoi genitori hanno permesso che accadesse. Vivevano nella stessa casa, posavano davanti all'albero di Natale per scattarsi delle foto, mentre la figlia stava diventando un tutt'uno con il divano. Come si fa a vedere e ignorare una persona che vive in una condizione del genere? E non una persona qualunque, ma colei che i coniugi Fletcher stessi avevano messo al mondo e che stava a marci... davanti ai loro occhi indifferenti. Il corona era effetto a un'ispezione cadaverica che dura circa un'ora. Poi, alle 3.07 della notte del 3 gennaio, Lacey Fletcher viene ufficialmente dichiarata morta. Il suo decesso, come anticipato, non viene, grazie a Dio, considerato un incidente, ma un omicidio commesso da Clay e Sheila, i genitori della vittima, che vengono arrestati e presi in custodia. Sul corpo di Lacey viene eseguita un'autopsia da cui emerge che la causa della morte è la sepsi. La sepsi è una rara complicazione di un'infezione le cui conseguenze, appunto, possono essere molto gravi o addirittura mortali. Consiste in una risposta infiammatoria, eccessiva dell'organismo, che danneggia tessuti e organi, compromettendone il funzionamento. Senza una cura immediata, quindi, può provocare la morte. Lacey aveva un'infezione al midollo osseo a causa di tutte le ulcere diffuse sul suo corpo e aveva ulteriori infezioni a causa della sua manchevole igiene. Soffriva di malnutrizione proteica cronica. Anche il medico che ha eseguito l'autopsia ha affermato che il corpo di Lacey versava nel peggior stato che avesse mai visto. Afferma che la donna stava marciando dall'interno, mentre era ancora viva. L'autopsia rivela anche che le gambe di Lacey erano piene di contratture. I muscoli e i tendini si erano irrigiditi, quindi era impossibile muoverle. Era rimasta seduta in quella posizione, a gambe incrociate, per così tanto tempo. Anche se avesse voluto muoversi, non avrebbe potuto. Si evidenziano diverse aree gialle nel suo corpo, dove la pelle è stata mangiata, mentre la zona della schiena e dei glutei è completamente annerita. Non ha più forme. Come detto, queste parti del corpo sono scomparse. Quando il coroner esamina lo stomaco di Lacey, vi ritrova la schiuma del divano e delle f***e. Questo vuol dire che la donna, prima di morire, si stava nutriendo con l'imbottitura del sofà e con le sue deiezioni. Mi si spezza davvero il cuore nel pensare a come ha vissuto questo essere umano per anni e anni, chissà quanto ha sofferto, soprattutto negli ultimi mesi di vita. I suoi spietati genitori vivevano in quella casa mentre la figlia si scioglieva nel divano. Non la stavano nutriendo, non la consideravano più. Ed è assurdo che sua madre fosse pure il vice sindaco della città. Questi due esseri orribili uscivano per andare a cena, per essere presenti agli eventi e lasciavano la figlia a casa amarrata in quelle condizioni brutali. Ma non è finita qui, c'è un'ultima rivelazione davvero sconvolgente che devo riportarvi. Lacey è rimasta in quello stato per ben 12 anni. Avete capito bene, non si è mossa da quel divano neanche per un secondo, per 12 anni. E vi assicuro, pensare a Lacey bloccata, prigioniera nel fosso di quel sofà, senza potersi muovere per più di un decennio, mentre i suoi genitori conducevano normalmente le loro vite, mi crea un'angoscia che non riesco neanche a spiegare. Forse non esistono neanche parole per descrivere la malvagità di Sheila e Clay. Al termine di questa autopsia, le autorità vogliono rivolgere delle domande alla coppia, ma, incredibilmente, viene loro concessa una cauzione per il rilascio. La cauzione è fissata a 300.000 dollari, di cui 72.000 in contanti, e loro riescono a pagarla, così tornano a piede libero. Un'altra cosa che mi fa davvero arrabbiare è che questi due soggetti erano pure benestanti. Non tutti, converrete con me, riescono a tirar fuori 72.000 dollari in contanti in poco tempo. Quindi, se avevano anche a disposizione così tanti soldi, perché diavolo non avevano curato al meglio la loro figlia? Perché non l'avevano portata in ospedale? Ricordate che a Sheila piaceva un sacco usare Facebook, giusto? Nei 12 anni in cui lei si è rimasta bloccata in quel divano, la madre non ha mai pubblicato nulla riguardo a lei. Eppure, ora che sua figlia è morta e che lei è stata rilasciata su cauzione, Sheila ha il coraggio di postare uno stato su Facebook in cui scrive «Mamma e papà ti amano così tanto». L'intento è chiaramente quello di salvare la propria reputazione, per quanto sia possibile. Nel frattempo, dopo il rilascio su cauzione, la coppia va avanti con la propria vita, fino a quando viene interrogata. Clay e Sheila affermano che la situazione in realtà è degenerata dal 2010, quando si sono recati dal dottore che aveva consigliato di ricoverare Lessie immediatamente. Ma i genitori si erano opposti, come ripetono nell'interrogatorio, perché Lessie si rifiutava di alzarsi dal divano. Quel divano era la sua zona sicura e confortevole e a causa del livello di autismo grave e dell'ansia sociale non voleva lasciarla. Clay e Sheila spiegano che non volevano costringere Lessie a fare qualcosa per cui non si sarebbe sentita a suo agio o che non voleva fare. Hanno permesso a Lessie di rimanere su quel divano perché era una sua scelta. Tutto questo, quindi, secondo questi due mostri, sarebbe opera della figlia. Sottolineano che non era colpa loro, che Lessie aveva preso le sue decisioni da sola, era un'adulta, quindi poteva fare quello che voleva. Ritengono di aver provato a incoraggiare Lessie ad alzarsi da quel divano, soprattutto quando doveva andare in bagno, ma lei si rifiutava. Quindi loro, come dicono alla polizia, cosa avrebbero dovuto fare? I detective a questo punto chiedono alla coppia perché non avesse chiamato un dottore o provato a chiedere aiuto in qualche modo. Siccome Sheila era il vice sindaco della città, era anche la portavoce degli interessi dei cittadini. Avrebbe dovuto difenderli e invece non aveva protetto neanche sua figlia. La sua posizione le permetteva di aiutare Lessie più facilmente. Inoltre la coppia aveva pure la disponibilità economica per farlo. Dovete sapere che in un primo momento, mentre approfondivo il caso, ho immaginato che i due coniugi non avessero abbastanza soldi. Ecco perché avevano negato al medico di avviare un ricovero coatto. Gli ospedali, in America, si pagano profumatamente. Quando i cittadini incappano in degli incidenti e devono essere curati in ospedale dopo essere state dimessi, a volte si ritrovano con un debito enorme sulle spalle. Ma non era questo il caso. Questi due soggetti avevano la possibilità di aiutare la loro figlia. Sheila però risponde agli investigatori Beh, cosa potevamo fare? Lessie non era mica malata. E qui onestamente rimango interdetta. Perché Lessie stava letteralmente margolata all'interno mentre era ancora viva. Sheila poi afferma che negli ultimi 12 anni, quindi mentre Lessie era bloccata sul divano, si era occupata di lei ogni singolo giorno. Le preparava la colazione e gliela portava sul sofà. Tornava a casa all'ora di pranzo per sfamarla e di sera cenavano insieme in soggiorno. Poi racconta che cambiava e rivestiva Lessie ogni giorno, quindi era anche consapevole del fatto che c'erano delle piaghe da decubito su tutto il suo corpo. Lei gliele puliva utilizzando una soluzione salina e dello zinco. Le applicava diverse creme e lozioni per idratarle la pelle. A quanto dice, Lessie non si era mai lamentata mentre lei le medicava e le spalmava addosso questi prodotti. Quindi Sheila sostiene che lei non soffrisse affatto. In una delle foto della scena del crimine si riesce a intravedere una parte più ampia del soggiorno, dove effettivamente appare un tavolino da caffè pieno di lozioni, creme, salviette e burotalco. Ci sono anche delle pile di vestiti puliti che salgono dal pavimento e una scatola di cartone piena di DVD della Disney. Ora tenetevi forte perché Sheila ha il coraggio di dire che aveva dormito sul divano ogni notte accanto a Lessie, tra quei tessuti ricoperti di femmine. Sì sì, ci crediamo tutti a questa storia, certo. Poi quando la polizia chiede alla coppia qualche informazione sui giorni precedenti, la morte di Lessie, Sheila spiega che la figlia aveva la mente lucida. I genitori avevano notato solo una differenza. Lessie stava mangiando un po' di meno del solito, ma non aveva smesso. Stando alle parole di Sheila, Lessie aveva mangiato mezzo panino e delle patatine il giorno prima di morire. A Sheila però sfugge un particolare alquanto rilevante. L'autopsia può evidenziare se sta mentendo oppure no. E non è stata trovata una sola traccia di cibo nello stomaco di Lessie. Quando l'interrogatorio si conclude, ovviamente la polizia deve cercare di dare un senso ai fatti. Perché è come Lessie era finita in quell'inferno di vita? Intanto la sua storia arriva alle orecchie dei media e finisce in prima pagina su tutti i giornali. Questo è uno dei casi più terribili degli ultimi tempi. Sembra che quasi non possa essere reale per quanto è assurdo. Com'è possibile che una persona sia rimasta bloccata su un divano per 12 anni? I giornali online inizialmente riportano che Lessie era affetta dalla sindrome di Guillain-Barré. È una rara disfunzione che interessa la trasmissione degli impulsi nervosi che possono essere rallentati o interrotti completamente. Il paziente di conseguenza accusa una paralisi muscolare o delle alterazioni percettive e funzionali per cui non è in grado di muoversi ma il suo cervello rimane funzionante. Questo dovrebbe spiegare il motivo per cui Lessie non si era mossa dal divano per 12 anni. Tuttavia i medici che lavorano al caso chiariscono che Lessie non aveva questa patologia e non c'è un'altra diagnosi al di là dell'ansia sociale e dello spettro autistico che spieghi cosa fosse successo a Lessie. Non emergono prove concrete o risposte certe le uniche testimonianze sono quelle di Clay e Sheila che non sono affidabili. E spesso quando non si riescono a trovare delle risposte soddisfacenti si dà avvio alle speculazioni. La teoria più attendibile che ho trovato online sostiene che Lessie non fosse davvero rimasta nelle stesse condizioni in cui è stata trovata per ben 12 anni. Cioè, era sicuramente rimasta sul divano per tutti quegli anni ma non aveva sempre versato in quelle condizioni estreme e terribili. Come detto, aveva tantissime piaghe da decubito, ferite aperte, vermi e insetti che le infestavano tutto il corpo. Quindi non avrebbe potuto sopravvivere in questo stato per 12 anni. Sarebbe morta molto prima a causa delle infezioni. Di conseguenza si pensa che le ferite e le infezioni siano peggiorate più recentemente. Alcuni ritengono che il suo stato si sia aggravato durante il lockdown del 2020, ovvero 18 mesi prima che Lessie morisse. Questa teoria mi sembra sensata. Durante questo periodo si è registrato un aumento dei casi di abbandone e di maltrattamenti. Eravamo tutti chiusi in casa e non c'erano occhi indiscreti da cui doversi nascondere per manifestare una buona apparenza diversa dalla realtà. Chile e Clay non potevano più uscire, non avevano più bisogno di fingere. Così avevano iniziato a occuparsi sempre meno di Lessie. Si presume che in origine questa situazione derivasse sì dall'ansia sociale di Lessie. Sicuramente lei non desiderava più uscire di casa. È probabile che non volesse neanche lasciare il soggiorno o alzarsi dal divano. Forse rimanendo troppo a lungo sul sofà aveva sviluppato numerose contratture quindi i suoi muscoli si erano completamente irrigiliti tanto da impedirle di muoversi. E i suoi genitori allora cosa avevano fatto? Avevano preso la fredda decisione di lasciarla lì, abbandonata al suo destino prestandole sempre meno attenzione. Non erano interessati a occuparsi della figlia, ad aiutarla, a salvarla da questa situazione. Non penso che scopriremo mai cosa fosse successo esattamente perché Clay e Sheila non vogliono danneggiare ancora di più la loro reputazione. Quindi continueranno a dire che erano impotenti di fronte alle scelte di Lessie. E io non riesco ancora a capacitarmi del fatto che questo caso sia reale. Non riesco a credere che dei genitori abbiano egoisticamente abbandonato la figlia su un divano per 12 anni consecutivi come si fa con una coperta vecchia. Non l'hanno mai ricoverata in ospedale. Hanno rifiutato il trattamento che gli era stato offerto dal medico. Sheila e Clay vengono accusati di omicidio di secondo grado e incriminati da un gran giurì ma si dichiarano non colpevoli. Nel febbraio del 2024 poco prima dell'inizio del processo decidono però di accettare un patteggiamento che riduce le loro accuse a omicidio colposo invece che omicidio di secondo grado. Poi l'avvocato di Sheila e Clay rilasciano la dichiarazione in cui afferma che i suoi clienti amavano da morire la loro figlia Lessie. Le parole scelte risuonano come una musica stonata alla luce dei fatti accaduti. Chissà se l'avvocato se ne è reso conto. La coppia invece dichiara di essere incredibilmente pentita. Sheila e Clay dicono che non avevano mai avuto intenzione di fare del male alla figlia che la loro vita ruotava attorno a Lessie e non facevano altro che prendersi cura di lei ogni giorno. Sostengono che stavano soltanto esaudendo i desideri e le volontà di Lessie. In pratica danno la colpa della morte della figlia a lei stessa. Il giudice condanna sia Clay che Sheila a 40 anni di prigione con una sospensione di 20 anni e 5 anni di libertà vigilata da scontare una volta terminato il periodo di detenzione. La sospensione implica che sconteranno soltanto 20 anni in carcere e secondo me questa pena non è assolutamente sufficiente. Entrambi potranno uscire all'età di 80 anni. Ragazzi e ragazze io non trovo parole per commentare questo caso perché è così esasperante. Mi chiedo davvero come facessero i due colpevoli a godersi la loro vita quotidiana uscendo a cena con gli amici, lavorando e divertendosi sapendo che la figlia era ormai un'estensione umana del divano. Inoltre come detto entrambi avevano le risorse economiche e il potere per aiutare Lessie come hanno fatto a vivere con questa consapevolezza per 12 anni. Come sono così addolorata per Lessie sembra che avesse conservato le sue facoltà mentali fino alla fine. Questo vuol dire che era consapevole di tutto quello che le stava accadendo ed è ciò che rende questo caso ancora più terribile. Questa donna provava un dolore indescrivibile e vedeva i propri genitori non degnarla più neanche del minimo aiuto quello indispensabile per sopravvivere. Mi chiedo quando si fosse verificato il momento in cui Lessie e i suoi genitori avevano smesso di intrattenere delle conversazioni perché è chiaro che ad un certo punto Sheila e Clay avevano evitato pure di dialogare con lei. Mi chiedo se alla fine Lessie fosse ancora in grado di parlare. Queste purtroppo sono tutte domande a cui non so dare una risposta. Sheila e Clay non ammetteranno mai la loro colpevolezza perché tingono troppo alla loro dannata reputazione. Ecco perché fin dall'inizio del video vi ho detto che il caso rimane parzialmente avvolto nel mistero. Sappiamo però ciò che Lessie ha vissuto. Ha dovuto subire una negligenza disumana e ha patito tutto questo dolore per mano dei suoi genitori. Voglio concludere questo video con il migliore ricordo di Lessie, la vittima di questo caso. È stata descritta come una persona gentile, premurosa e molto dolce. Amava la musica country, i film Disney e aveva un gruppo di amici che le voleva bene quando andava ancora a scuola. Erano inseparabili, ma purtroppo Lessie si era gradualmente allontanata da questi amici ed era stata abbandonata dai suoi genitori. Nessuno si era più preoccupato di lei e questa vicenda si è conclusa con un'immensa tragedia. La sua esistenza si è interrotta con una feroce agonia e Lessie, che aveva soltanto 36 anni, meritava di vivere molto più a lungo e in maniera dignitosa. So che questo caso è stato trattato da diverse persone perché è un caso abbastanza, insomma, famoso di questo periodo, però ho voluto portarvelo anch'io, ragazzi, perché non ho mai sentito una storia così crudele, così terribile. Non so se c'è un caso peggiore di questo. Io non lo so, non ne ho idea. Io so solo che dopo aver studiato e scritto questo caso ho avuto incubi continui per almeno due o tre notti. Ed è la prima volta che mi succede, attenzione. Quindi, insomma, non è stato affatto facile. Non è stato facile non urlare per tutta la durata del video perché forse per me avrei urlato e basta. Sono incazzata come una iena, vi assicuro. In generale sono proprio angosciata da questo caso. Ci penso e mi sale l'ansia, mi sale l'angoscia. Mi viene anche un po' tipo la tachicardia. Quindi, ecco, non è stato affatto facile, ripeto, ma credo sia giusto raccontare questo caso, parlare di questo caso perché è incredibile come la negligenza di queste due persone sia arrivata a questi limiti. Come fai? Come fai tutti i giorni a vedere tua figlia ridotta così su un divano e non fare niente? E non fare un trattamento sanitario obbligatorio? Come fai a non chiedere un TSO? Come si fa? Io non lo so, non lo so. Penso che alcune persone siano davvero senza cuore. La cosa peggiore è che a un certo punto si hanno anche smesso di nutrirla. È evidente. Ma la cosa peggiore è che lei si è morta nell'indifferenza. Ed è terribile tutto ciò. È angosciante, è terribile. Ed è così tanto doloroso pensare a cosa ha passato, cosa ha sopportato durante quegli ultimi mesi. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi di questo caso. Sono molto curiosa di leggere le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Voglio sapere assolutamente che sentimenti questo caso vi ha suscitato. Perché io sono davvero scossa, devo dire la verità. Sono molto scossa. Quindi sono curiosa anche di sapere se voi provate la stessa cosa. E insomma perché mi ha davvero davvero lasciato un segno questo caso. Soprattutto nel cervello oserei dire. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.